attenzione perché nicolò schiera ha rilanciato una vera e propria bomba sul mercato della juventus ma attenzione sulla juventus è una vicenda che vedo coinvolto max allegri che può inevitabilmente però avere degli spunti per quanto riguarda il mercato della juventus scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su fcm newsport e come sempre ricordo da uno dei pochi canali su questa piattaforma essere costantemente tenervi costantemente aggiornato sulle vicende la juventus in maniera totalmente gratuito e basta iscrivervi al canale e lasciare like ai contenuti allora andiamo a notizia perché nicolò schiera ci ha parlato di questa situazione legata alla juventus come sapete la juventus ha deciso di esonerare ufficialmente massimo allegri avendo proposto prima una soluzione alternativa diciamo economicamente più vantaggiosa soprattutto per la juventus lui ha rifiutato ha detto voglio tutti i miei soldi mi spettano i miei 7 barra 8 milioni di euro netti e quindi datemi lì e io sarò felice di lasciare questo contesto che cominciava a essere almeno per quanto riguarda la juventus un po stretto e quindi cosa succede succede che la juventus deve in qualche modo pagare questi soldi ma la speranza è che allegri possa trovare un'altra squadra e attenzione che la notizia che riporta nicolò schiera da questo punto di vista interessantissima perché nicolò schiera dice che allegri si prenderà tutti i soldi ma attenzione se dovesse andare a allenare un'altra squadra dovrebbe risolvere il suo contratto con la juventus o quantomeno la squadra che vuole appunto max levi dovrebbe pagare qualcosa all'eventus per liberarlo al suo contratto perché allegri rimarrebbe un dipendente all'eventus allegro non può prendere soldi a juventus e contemporaneamente andare un'altra squadra e percepire un altro ingaggio e quindi la notizia che dice nicolò schiera è che mi risulta che un club importante senza allenatore in tarda mattinata quindi facciamo riferimento qualche ora fa ha ricevuto una chiamata da parte dei rappresentanti di allegri dicendo guardate che max ora è libero siete interessati non è un club arabo bensì uno che la prossima stagione di spera disputerà la uefa champions league io a prima chitto video come il primo pensiero che ha avuto soprattutto considerando che max allegri è uno che se potesse scegliere preferirebbe rimanere in italia e anzi le soluzioni sono due la prima è quella del milan club che la juventus o meglio che sa già che non confermerà assolutamente proprio pioli pioli è stato quasi ormai ufficialmente salutato dal milan il milan ha già confermato che vorrà cambiare allenatore ed è un allegri che potrebbe essere in controtendenza con l'idea milan perché il milan sappiamo che ha una nuova strategia politica diciamo diverso sia punta un allenatore straniero è vero però che allegri già stato al di milan conosce l'ambiente e potrebbe in qualche modo essere una soluzione alternativa per un club come il milan che potrebbe affidarsi a un tecnico che almeno in italia è uno che ha il suo curriculum consideriamo anche che questi staff questo nuovo dirigenza del milan è una dirigenza che guarda anche molto al curriculum e quindi ci potrebbe anche stare che loro pensano stanno lì a pensare ma sai che questo ha vinto tanto potrebbe riportarci a vincere in maniera importante ha fatto due finali di champions e gente soprattutto quella che gestisce il mina che si basa molto sui algoritmi e queste robe magari vede poco campo con molto più risultati e dati i dati dicono che allegri è uno che ha vinto praticamente di tutto in italia e addirittura dato due volte in finale cifres league e quindi uno che potrebbe riportare in teoria il milan in alto ma attenzione perché l'altro club che mi è venuto in immediatamente italiano che senza appunto senza allenatore è proprio il napoli il napoli che chiaramente ha già detto ha già soltato calzone di fatto all'ultima partita a disputare quella di settimana prossima fondamentalmente il napoli lascerà andare calzona il terzo allenatore in un anno anche il napoli è una piazza napoli è una piazza potrebbe interessare allegri prima di tutto perché c'è manna manna infatti ex di s della juventus ha ufficialmente salutato la juventus ha ufficialmente detto addio alla juve e sta andando proprio al napoli andare al napoli vuol dire rimanere in italia prendere una squadra che attenzione molti dicono il napoli non è una grande squadra lui ama stare con le grandi squadre ma il napoli comunque è una squadra che è stata grande squadra l'anno scorso che comunque potrebbe riplasmare cercando una mentalità diversa sicuramente quella di spalletti ma comunque vincente ed è sicuramente una squadra che qualche soldo lo può spendere visto che andrà a salutare usi man quindi comunque avrà non avrà più l'attaccante titolare ma comunque a simeone e raspadori soprattutto avrà tanti soldi a spendere virtù di molte cessioni che arriveranno e soprattutto ripeto c'è manna altro aspetto importante che allegri diversamente a quello che si dice oggi vista la situazione congiuntoli è uno che ai tempi di agnelli e uno è un aziendalista è uno che con agnelli ha creato un rapporto tale che qualsiasi cosa andava bene perché era un grande aziendalista e de laurentis questo lo sa de laurentis vuole uno non come spalletti che la prima cosa sta lì a ripetertela vuole un aziendalista e allegri lo è allegri è uno che se gli dai soldi e quello che chiede lui è un aziendalista quando invece gli cambi le carte in tavola come è successo con la juventus in cui hai messo in mezzo giuntoli che è un uomo che non era più uno non era un classico yes man lì salta il banco perché alla juventus interessa tutto questo perché la juventus ha intenzione di risolvere il contratto con allegri e finché allegri è libero allegri percepisce i soldi alla juve nel momento in cui invece allegri decide di andare altrove a quel punto le cose cambiano le cose inevitabilmente cambiano tra l'altro ora comincia anche la come dire l'esaltazione di max anche per quanto riguarda diciamo gli amici perché ad esempio stamattina ha parlato anche galeone ha detto l'esonero di max un'ingiustizia ma a questo punto meglio così perché perché secondo lui se max è giunto ne vanno d'accordo meglio separarsi se l'altra sera è sbottato in quel modo e io le conosco da anni dice appunto da leone ci sarà stato sicuramente qualcosa di grave che ha fatto scatenare la sua reazione senza contare che il rigore non dato a vlau c'era impossibile non assegnare una cosa è certa la squadra in coppa italia ha dimostrato di essere con max altrimenti la juve non vince con quello spirito con l'atalanta di gasperini e poi attenzione si parla anche dell'addio dice questo addio rispetto a quello 2019 è molto più doloroso perché la sua unica colpa è quella di aver fatto troppo bene il ginore di andata creando illusioni aspettative esterne anche qui nelle robe veramente fuori dal mondo e poi chi ci guadagna questo divorzio lui dice max senza dubbio ha vinto 12 trofei alla guida la juve dell'unica allenatore aver conquistato cinque volte la coppa italia adezio spazio ai professori vediamo se vinceranno altrettanto la juve ecco qua è veramente incredibile riportare certe cose sento dire che abile con i giovani tiago molta perché allegri non ha trasformato cambiaso lasciato il di semigrato healing tiago molto è brava e sono il primo a riconoscerlo però anche un bel caratterino e più esigente di max vedremo quindi cominciano le stilettate anche a quello che è un il prossimo allenatore la juventus e poi attenzione allegri fermo lo dice spero di vederlo in premio anche se il mio sogno è un altro non il milan ma il bayer monaco perché il bayer monaco all'eventus di germania sono ricerca di un grande allenatore max sarebbe l'ideale per guidare quei talenti e per riportare un club avarese al successo dopo l'ultima bundesliga terminata in anticipo con appunto la vittoria di xabi alonso quindi quindi si parla anche del bayer monaco quindi l'idea che mi ero fatto io era quella di una squadra italiana ma il suo amico caleone lo spinge anche verso la bundesliga e quindi il bayer monaco per tornare a vincere facili c'è la verità che non è che si mette in gioco con un faccio per esempio un celsi che non è sicuro e possa riscavalcare le gerarchie poi come fa un certo antino conte no lui vuole la certezza che alba il bayer monaco e poi a rabbia sodita lui c'è no no non penso cre per credo che max abbia bisogno di non credo che max abbia bisogno di soldi piuttosto credo che un pensiero ad allegri lo farà anche de laurenti sta sempre un suo estimatore e qui il pensiero meno fatto che avevo fatto poco fa sul napoli riemerge evidentemente perché è chiaro che la l'idea napoli secondo me lo affascina perché in italia e perché è una squadra che ha già vinto e quindi potrebbe essere un'altra vittoria per allegri insomma un allegri che comunque l'evento stifa per un allegri che cerca squadra e che non stia fermo un anno perché vorrebbe dire pagarlo per intero un anno voi saprete che pensate voi questo nei commenti di queste ipotesi questo scenario soprattutto questa notizia che ha riportato nicolò schiera sulla juve e sul futuro di max allegri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti